ieri è successo un tragico evento dalle ripercussioni mondiali perché tutto ciò che succede negli stati uniti ha delle ripercussioni mondiali ieri infatti abbiamo assistito all'attentato contro la persona di donald trump che negli ultimi anni si è dedicato a fare polemiche scandali ma soprattutto a andare in tribunale per delle cause dei processi e quindi ha protagonizzato molto bene le scene pubbliche si è sempre fatto presente e ieri hanno attentato contro la sua vita naturalmente questo evento come è logico che sia perché gli stati uniti sono un impero globale ha avuto delle ripercussioni serie in tutto il mondo addirittura sulla borsa sull'economia inutile dire che tutti i media si sono focalizzati tutti mass media su quello che è successo negli stati uniti tutti gli youtubers tutto il mondo hanno trattenuto il respiro il fiato per stare ascoltare quello che veniva dagli stati uniti quello che veniva detto negli stati uniti e quindi come dire questo è un duro colpo non solo contro donald trump perché magari lui ne esce rafforzato paradossalmente da questo che è successo perché adesso appare come vittima e ci sono i soliti complotisti che dicono che il partito repubblicano o lui stesso se lo siano fatto fare ma non è così ci sono sempre questi soliti serial killer negli stati uniti che mettono lo zampino piuttosto è stato un colpo ancora più duro per biden e il partito democratico perché forse trump paradossalmente ne esce rafforzato invece biden no comunque un duro colpo anche per la democrazia perché dai tempi di ronald reagan che non attentano contro un candidato presidenziale o un presidente o un ex presidente e quindi è un qualche cosa che veramente lascia interdetti perché non ci si sarebbe mai aspettato questo ma anche fa vedere come con l'estrema circolazione di armi che ci sono negli stati uniti e anche di pazzi disposti ad utilizzare queste armi perché le armi si fabbricano perché siano utilizzate non peraltro per servire come possa carte si possono comprare attraverso internet quindi in california ci sono delle restrizioni sulle armi ma vengono evase comprando attraverso internet in stati dove le armi si possono ancora comprare certe armi armi da guerra come la r15 semiautomatico allora se di nuovo c'è la tendenza a utilizzare le armi anche nella vita politica e il rischio che prima o poi vengano colpite figure istituzionali c'è e non solo candidati allora come ovviare a questo perché le crisi che vengono in nord america poi si riflettono nel resto del mondo meditate gente meditate ieri è toccato a trump che lui per un pelo l'ha fatto franca però sono morte una o due persone come minimo tra gli spettatori perché hanno preso il colpo è morto almeno un sostenitore di trump ma un domani potrebbe succedere alla figura del presidente sia esso trump biden o chi altri per lui perché molti pensano che biden debba scendere dalla candidatura presidenziale perché non sarebbe idoneo come presidente infatti si scorda persino dove si trova o che cosa sta dicendo o a zelensky gli dice benvenuto putin quindi immaginiamoci zelensky come stato contento dall'essere ricevuto come putin però ecco bisogna pensare che il giorno di domani se questa violenza se si istituzionalizza si normalizza per la vita politica nord americana sarebbe un vero problema comunque se voi volete che io faccia dei video sui miei libri ditemelo datemi un super grazie o abbonatevi al mio canale e richiedendomi di fare un video su un argomento vi saluta il vostro santo incerto